E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Futuro elettrizzante, l'iniziativa di Compartigianato Vicenza per lo sviluppo della mobilità elettrica, che ha trovato l'adesione della larga maggioranza dei comuni della provincia impegnatisi ad installare torrette per la ricarica nei loro territori, ha raggiunto un altro obiettivo. Il gruppo, costituito da meccanici, elettromeccanici e carrozzieri, ha portato a termine il lavoro di sostituzione di un motore endotermico con uno elettrico in un'auto usata. E va, che è una meraviglia. Ve la mostrammo in officina, con il vano sotto al cofano totalmente vuoto e in attesa dell'adattamento di un motore elettrico. Ed eccola qua, la Fiat Panda usata, nata con un motore a combustione interna e che oggi dispone di un propulsore elettrico. Facile a dirsi, decisamente più difficile a realizzarsi, perché tutte le funzionalità e le dotazioni nate con l'auto sono state mantenute, a partire dal cambio meccanico, con la stessa gamma di rapporti esistente in origine. Prima, seconda, terza, quarta, come se sotto quel cofano ci fosse ancora il vecchio motore, con la differenza che l'auto, in movimento, produce solo un soffio e, cosa di non poco conto, fa 100 chilometri con circa 2 euro. Eccoci qua, noi siamo pronti, l'auto è trasformata e funzionante già da qualche mese. Tutto risolto? No. Ora, come sottolineiamo in sede di presentazione del progetto, per vedere circolare questa auto e altre similmente trasformate, Confartigenato sta premendo sulla Direzione Generale della Motorizzazione, al Ministero di Infrastrutture e Trasporti, per ottenere un decreto legge che stabilisca le procedure atte all'omologazione di automezzi in cui si sia intervenuti con l'installazione di un motore elettrico. Per quanto riguarda l'omologazione, noi sapevamo che in Italia non c'era una norma che prevedeva la trasformazione dell'auto elettrica, perciò abbiamo lavorato presso la motorizzazione. La motorizzazione ha creduto al nostro progetto, ci ha detto fateci una proposta, abbiamo lavorato la proposta, già ci siamo incontrati parecchie volte. Diciamo che il progetto è quasi pronto, dovrà andare in comunità europea, quando ritornerà dalla comunità europea poi si potrà procedere a un decreto legge che porterà all'omologazione di tutte queste vetture. Quali sono i fattori che dovrebbero convincere il Ministero ad essere dalla vostra parte? Sicuramente i fattori sono parecchi, perché Confartisanato già da qualche anno sta portando avanti un progetto che è partito da futuro elettrisante per quanto riguarda il nostro contributo all'ambiente per cercare di diminuire l'inquinamento, le polveri sottili. Qui nella nostra provincia soprattutto siamo a livelli record, perciò noi stiamo dando il nostro contributo con questo progetto. L'ospicio è che l'iter legislativo burocratico non sia più dispendioso in termini di tempo della parte tecnico-pratica e che Confartisanato possa ottenere ciò che oggi è già possibile, ad esempio in Germania. Ne gioverà l'ambiente e la riqualificazione del parco autocircolante.